È proprio vero che fritto è tutto buono, ma le alici sono pazzesche. Prepariamo delle golosissime frittelle di alici. E vedi che ti mangi! Io la assaggio un altro po'. Per la pulizia eliminiamo la testa dagli alici e apriamole al libero. Eliminiamo delicatamente la lisca centrale. Passiamole sotto l'acqua per eliminare eventuali impurità e asciughiamole bene con carta assorbente. In una ciotola capiente uniamo 4 uova e una macinata di pepe. Sbattiamo le uova con una forchetta e aggiungiamo prezzemolo tritato e pecorino. Amalgamiamo bene il tutto e teniamo da parte. In un sacchetto da cucina uniamo la farina e la semola. Infariniamo le alici scuotendo il sacchetto. In questo modo infarinarle sarà facile e veloce. Apriamo il sacchetto ed eliminiamo dagli alici la farina in eccesso. Trasferiamole nelle uova. Mischiamole uniformemente con il composto con le uova e sono pronte per essere tuffate nell'olio. Appena l'olio sarà ben caldo aggiungiamo piccole cucchiaiate del composto con le alici. Lasciamole gonfiare e dorare nell'olio girandole da tutti i lati. Appena saranno ben dorate possiamo sgocciolarle con due cucchiai e trasferirle su carta assorbente. Un pizzico di sale e sono pronte per essere gustate. Preparatele sono davvero favolose.